La Beckham, Fari Conti con l'Ambiente, siamo con Marco Gisotti, questa mattina abbiamo avuto un appuntamento molto importante, il Premio Ambiente, presso la Camera di Commercio di Ravenna, raccontaci un po' la mattinata. Il Premio, io credo che sia qualcosa di necessario oggi, è vero che ci sono tanti premi, però è anche vero che ormai l'informazione è talmente abituata a darci cattive notizie, a farci vedere che il crimine paga, questa è la morale di questo Paese, che servono buoni esempi e dare un premio per motivazioni ambientali, darlo a un'azienda, darlo a una scuola diventa necessario perché si dà il messaggio che facendo i bravi, con le buone pratiche, si può avere un premio e quindi l'onestà paga. Senti, presentiamo qui a Ravenna il tuo libro, la sua condivisione, l'edizione Reload, l'abbiamo definita, la guida ai Green Jobs, edizione Ambiente, ecco parlaci un po' di questo libro e in che cosa è stato integrato. Sì, faccio un po' una marzullata, lo faccio vedere a chi ci sta guardando su internet, non soltanto perché va acquistato, certo, io e Tessa Genisio che l'abbiamo scritto, insomma ci abbiamo lavorato, sono 512 pagine, quindi è stato un lavorone, ci teniamo. Ci teniamo che però venga letto anche per un'altra ragione, innanzitutto è la seconda edizione, noi abbiamo fatto una prima edizione tre anni fa, in tre anni è cambiato tutto all'interno della Green Economy, dei lavori verdi, eccetera, quindi lo abbiamo riscritto da capo, ampliandola, sono aumentate di 100 pagine rispetto all'edizione vecchia, perché è un manuale pensato subito e prevalentemente per i giovani, chi deve scegliere una carriera, chi deve sapere qual è il lavoro del futuro, quale tipo di scuola deve fare, quale competenze deve avere e se quel lavoro oggi ha un mercato, cioè devo avere fatto quello studio ma poi lo trovo il lavoro. Beh, di queste professioni che noi elenchiamo diciamo tutto, quelle che oggi hanno un futuro, quelle che non ce l'hanno più e quelle che ancora non ce l'hanno ma immaginiamo che dentro due, tre, quattro anni saranno gettonate. Libro, ripeto, divulgativo, può essere letto su più livelli, analizziamo 19 settori industriali, ci sono 50 interviste a personalità che vanno da tecnici di settore a scienziati, ad amministratori pubblici, che però hanno una competenza sui singoli settori, che può essere dalla mobilità sostenibile ai nuovi motori per le automobili, all'energia rinnovabile, all'agricoltura, al turismo, alla difesa e alla conservazione della natura, per esempio. Grazie Marco, buon lavoro. Grazie a voi. Grazie a voi.